Buongiorno, come già annunciato nel precedente video rilasciato pochi giorni fa, oggi ci occupiamo di un sito online che abbina lo studio della musica a quello della fisica, della chimica e delle scienze. E come già anticipato appunto nel corso del precedente video con questo metodo Kandinsky che univa nello specifico i suoni e i colori con questo profondo nesso che veniva già evidenziato da questo famoso artista. Bene, oggi diamo un'occhiata più nello specifico però al sito in generale, cioè Chrome Music Lab. Troverete naturalmente all'interno della descrizione del video anche il link da cliccare. Bene, è un sito molto particolare ma anche molto interessante perché a prima vista ha già un impatto molto molto gradevole e non è una cosa da sottovalutare perché come vedremo adesso è uno strumento molto utile che può essere utilizzato non soltanto alle scuole medie ma anche per esempio per gli alunni della primaria e della scuola dell'infanzia perché lega molto i colori, anche i suoni ed ha un approccio molto molto ludico e divertente. Prima di tutto passiamo all'analisi di questo spettrogramma che è uno spettrogramma da tutti i punti di vista quindi permette, nonostante l'aspetto molto carino e ludico, di analizzare l'intensità di un suono in base alle due funzioni della frequenza e del tempo. Anzi, osserviamolo più da vicino. Questo è l'esempio dello spettrogramma del flauto e come vediamo appunto l'intensità del suono viene evidenziata attraverso questa rappresentazione grafica molto molto colorata che già a prima vista ci fa vedere anche i picchi del suono in particolare. Lo stesso dicasi per l'arpa questo è un altro aspetto interessante perché ci permette appunto di poter confrontare e far vedere anche visivamente agli alunni le differenze tra i diversi tipi di suono da parte di questi strumenti. lo stesso dicasi per il fischio umano che però può essere anche abbinato al cinguettio degli uccellini quindi c'è una scelta molto molto vasta. Molto interessante per gli alunni anche più piccoli può essere anche la possibilità di guidare questo suono attraverso l'utilizzo delle nostre dita sul pad per esempio o col mouse abbinati al pc. Quindi anche in questo caso possiamo anzi l'alunno o l'alunna possono verificare appunto l'intensità del suono in base alla decisione che ne prendiamo. Altro aspetto molto simpatico è quello legato all'utilizzo del microfono come appunto faremo brevemente adesso. Bene, quello che ho fatto appunto è semplicemente provare a intonare questa nota nel microfono come sto ancora facendo adesso parlando, ecco appunto e modificando il mio tono di voce questo permette di avere uno spettrogramma che indica anche quando l'intensità cambia anche in base magari al mio tono al mio volume di voce ed è un aspetto pratico che magari può essere davvero legato all'imparare, all'apprendere come il suono e come l'intensità del suono cambiano in base alla situazione. Torniamo indietro e magari approfondiamo anche un'altra di queste funzioni ce ne sono davvero tante oggi non le guardiamo tutte ma possiamo comunque renderci conto di quanto possono essere effettivamente utili. a tal proposito proviamo a cliccare su Harmonix e in questo caso abbiamo di fronte delle onde armoniche cioè dei fenomeni vibratori periodici quindi in realtà sono molto legati alle discipline anche scientifiche perché ecco possiamo rappresentare visivamente ciò che avviene appunto nel caso di queste onde periodiche che possono essere anche sinusoidali. cliccando potremo appunto ascoltare anche il suono che generano e la relativa intensità. Quindi anche da questo punto di vista questo può essere un altro prezioso strumento per approfondire degli argomenti sicuramente non semplici che però in questo caso possono essere testati con questa sorta di laboratorio appunto virtuale legato appunto sempre ai suoni. spostandoci ancora troviamo anche degli altri strumenti che non sono legati necessariamente alla metodologia STEM ma che sono comunque molto utili e molto divertenti anche da utilizzare appunto per un approccio maggiormente creativo. Prendiamo un esempio il Melody Maker. Il Melody Maker di fatto serve come dice anche il nome stesso a creare appunto una melodia. Immaginiamo appunto di avere una sorta di pentagramma di fronte che questo è virtuale e adesso al momento faccio una composizione molto semplice una scala a tutti gli effetti quindi vado a selezionare le varie note in successione e a questo punto l'alunno potrebbe ascoltare ciò che ha creato e naturalmente siamo di fronte a una scala. L'aspetto però interessante legato anche alla metodologia STEM riguarda questa sezione a destra che è legata ai BPM cioè ai battiti per minuto come evidenziato anche dalla figura degli omini che appunto corrono sono in posizione ferma. Attualmente ecco ecco questa è un'informazione utile siamo sui 120 BPM che è appunto l'unità standard la misura standard per i battiti per minuto ma naturalmente ne potremmo anche variare questa questa misura scendendo ed ecco appunto che questa frequenza diminuisce e anche l'alunno o gli alunni appunto possono rendersi conto facilmente velocemente di come la situazione si è cambiata stesso discorso se volessimo effettivamente aumentarlo ecco il concetto di BPM di battito per minuto è davvero facile da assimilare in questo modo e però qual è l'aspetto anche positivo che in realtà ho fatto semplicemente una scala ma potevo anche fare qualcosa di diverso se vogliamo cancellare le note possiamo appunto cliccarci semplicemente sopra e possiamo riposizionarle l'alunno può riposizionarle come preferisce adesso io faccio anche qualcosa di casuale ma giusto per rendere anche l'idea di cosa uscirà come risultato finale quindi naturalmente in questo caso cambia ma è possibile anche creare naturalmente delle melodie più precise e che rispondono alla volontà e alle scelte dell'alunno in questione quindi anche in questo caso aspetto creativo funzione maggiormente creativa ma legata comunque ad un aspetto STEM che è quello appunto dei BPM o battiti per minuto e ancora muovendoci c'è il Songmaker che invece è un aspetto molto interessante che può davvero dare una mano nell'ambito dell'educazione musicale anche a creare qualcosa di personale per ciascun alunno che lo utilizzerà Songmaker anche in questo caso stiamo creando appunto non tanto una melodia ma stavolta una canzone perché cosa è cambiato beh qualcosa in realtà è cambiato anche in questo caso possiamo inserire le nostre note su questo pentagramma virtuale io anche in questo caso inserirò appunto una scala senza completare neanche tutto il pentagramma ma allo stesso tempo possiamo come vedremo a breve inserire anche gli strumenti di accompagnamento che sono una caratteristica molto simpatica fateci caso sono qui sotto Marimba Electronic sono due delle scelte possibili come le inseriamo? beh in realtà cliccandole per esempio qui sotto vedete se cliccate corrisponde già effettivamente un suono proviamo a metterle anche in questo caso e possiamo ancora poi cambiarle perché abbiamo a disposizione per esempio il piano o ancora per esempio i blocchi cioè in realtà appunto altri strumenti musicali particolari bene proviamo a sentire quello che appunto è uscito fuori bene questo è un esempio molto semplice ma dimostra appunto come sia possibile posizionare anche in questo caso le note in base alle proprie preferenze ma anche unendo per esempio gli strumenti legati all'accompagnamento musicale anche in questo caso si può modificare anche la frequenza se poi si decide appunto di modificare qualcosa si fa undo per annullare le scelte fatte in precedenza si può anche poi effettivamente salvare il risultato finale anzi è proprio la funzione save forse quella più particolare interessante perché se noi andiamo a cliccarci sopra notiamo che viene fuori questo your song is saved at this link cioè noi abbiamo salvato questa nostra canzone a un link specifico che è effettivamente questo qui non si vede tutto ma in realtà esiste e noi possiamo fare una cosa molto semplice o l'alunno può fare una cosa molto semplice che è effettivamente quella di copiarsi il link che può fare utilizzare in qual modo beh una volta copiato può per esempio inserirlo in una mail e spedirlo appunto a un compagno a un'altra persona eccetera di fatto chi riceve questo questo link cliccandoci sopra ascolterà la stessa canzone che abbiamo salvato proviamo inoltre a immaginare che per esempio gli alunni abbiano prodotto un sito personale o la classe abbia un sito personale beh c'è anche la funzione embed code che permette appunto con copy code di aggiungere una canzone direttamente a una web page o una pagina web in particolare si può inoltre poi scaricare questo file che è un file musicale in diversi formati ora per esempio se noi andassimo a cliccare su download wave ecco si attiva appunto la procedura di download quindi cliccandoci sopra possiamo poi salvarlo appunto sul nostro pc ci ritroveremo di fronte alla schermata di apertura di groove nel mio caso per esempio che mi apre questo file e in effetti funziona anzi si può anche riprodurre in miniatura quindi in realtà ecco esiste un qualcosa poi di fisico che è stato realmente creato e che può essere immagazzinato naturalmente in questo caso specifico il file lo troverete anche nei contenuti appunto della cartella download ad esempio anche WLC legge tranquillamente questi audio e potrete quindi ascoltarli con una buona qualità bene quindi abbiamo osservato diversi esempi di applicazioni legate a questo Chrome Music Lab ce ne sono quindi diversi davvero tanti e soprattutto di genere molto variegato beh in questa cosa mi sta chiedendo torni indietro la canzone non verrà salvata beh in questo caso non la voglio salvare quindi appunto sto uscendo bene e quindi ritorniamo alla schermata principale ce ne sono anche tante altre di esperienze in questo sito alcune sono anche effettivamente molto molto simpatiche e ripeto la connessione con la metodologia STEM è comunque sempre molto forte in ciascuna di esse concludo proprio con gli oscillatori oscillators sono degli oscillatori sonori che molto particolari molto simpatici che però hanno la funzione di essere degli oscillatori a tutti gli effetti quindi generano onde sonore in base alla frequenza appunto che viene indicata sotto in questo caso 4,40 ecco appunto genera onde sonore ma se ci spostiamo ancora con una frequenza maggiore oscillatore cambia espressione anche ma cambia anche appunto onda sonora ci spostiamo ancora la frequenza è cambiata cambia anche il tipo di suono generato così come viene indicata anche il tipo di oscillatore in questo caso in base anche alla forma che assume quindi anche questo nella sua simpatia generale è comunque un'esperienza che unisce lo studio del suono e della musica ha aspetti molto più legati alla fisica soprattutto per esempio o in generale anche alla matematica quindi aspetto cromatico molto molto interessante molto piacevole anche molto rilassante buona analisi delle caratteristiche del suono e contemporaneamente anche molti rimandi ad altre discipline appunto più tecniche quindi questo Chrome Music Lab è un qualcosa di più di un gioco è un qualcosa legato davvero delle esperienze virtuali che permettono appunto di coniugare diversi ambiti quindi lo consiglio appunto anche perché appunto è utilizzabile non soltanto nelle classi della scuola secondaria del primo grado le scuole medie ma è adatto anche per esempio a bambini molto molto più piccoli anche in virtù di questo aspetto grafico peculiare molto particolare grazie per l'attenzione per l'attenzione